Per noi una Smart Cities è prima di tutto una città che ascolta i cittadini e ascolta i suoi bisogni e che in base a questo cerca di pianificare uno sviluppo sostenibile, di gestire in modo oculato le sue risorse e di fare degli investimenti sia sulle persone, che sui processi, che sull'organizzazione e sull'innovazione. E' chiaro che non è un percorso facile perché in questi tempi di razionalizzazione delle risorse degli enti locali è un discorso comunque complesso e articolato, però il Comune di Modena sta cercando in tutti i modi basandosi su una conoscenza del proprio territorio, dei propri sistemi e dei propri dati in modo dettagliato di pianificare degli interventi puntuali, degli interventi che hanno una quantificazione parimetrica anche dei costi in modo da arrivare sempre più ad essere una Smart Cities.